e quello cos'è? non l'avevo mai visto prima aspetta un attimo che vado a controllare sembra quasi un isolotto fluttuante chi ce l'ha messo lì? chi l'ha costruito? che strana forma ha soprattutto oddio cos'è? cos'è questa musica? sembra provenire da questo portale beh c'è da fidarsi proviamo a trovare dentro oddio sembra di cadere nel vuoto mi sento leggero oddio che strano sogno che ho fatto ma questa non è casa mia dove sono finito oddio cos'è questa cosa dove dove sono? ma questo non è il mio mondo cosa sono tutte queste case colorate e questi fiori? e tu chi sei? ciao 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 Sono Zanzo e bentornati sul mio canale e oggi siamo nella nuova serie di Minecraft Siamo nel primo episodio della Pixelmon Avete visto anche questa intro super mega figa, mega studiata della Madonna? E volevo ringraziare innanzitutto, prima di iniziare questa serie, i ragazzi della community di Crystal Gaming Che ci hanno gentilmente offerto il server sul quale abbiamo caricato appunto questa mod di Minecraft E vi anticipo subito ragazzi che in questa serie non sarò solo Infatti la stiamo giocando insieme io, Sbucci, Alec, MrFerreX e Ferre Come potete vedere in questo momento nel server ci siamo sia io che Ferre che stiamo registrando E ragazzi io non ho mai giocato a una Pixelmon Quindi non so come funziona ma non sono spiegato Con la R butti fuori il tuo Pokémon Che naturalmente ragazzi io come starter, come avete visto anche dalla copertina Ho scelto Charmander perché Charmander era il mio idolo quando ero più piccolo E ragazzi non so come funzioni la Pixelmon Quindi datemi qua sotto un botto di consigli Se raggiungiamo 2000 like settimana prossima Prima di sabato naturalmente visto che questa serie uscirà tutti i sabati Uscirà un episodio bonus E ragazzi iniziamo Allora in alto a destra c'è la mia minimappa Vediamo cos'è questa Ho trovato proteine Ah ok, una cosa sola ragazzi La lingua mi hanno consigliato Alec e gli altri di mettere in italiano Perché mettendone in italiano Anche le mosse dei Pokémon e i dialoghi, non tutti però, saranno in italiano Quindi sarà più facile per me giocare Vediamo, proteina, proteina Non so cosa fa la proteina Poi magari con la wiki Andremo a leggere un po' quello che fanno un po' tutti gli oggetti Allora in questo primo episodio esploriamo un po' Quella che è, quello che è il nostro villaggio Quindi questa è casa nostra teoricamente Ok, usciti da casa nostra abbiamo il nostro villaggio Qua ci sono degli alberi giganteschi E allora da quello che so È settata in Peaceful Perché se no da quello che mi hanno detto E rompe un po' il cazzo La fame E la sciampeare Questo è un allenatore di livello Oddio, cos'è questo? Ma cos'è, è minuscolo È un allenatore di livello 15 quello Noi siamo, abbiamo Charmander a livello 5 Noi raga non possiamo Questa? Ah, spettacolo Qui c'ho zero money Sono un po' raccio Allora, in questa casa non c'è nulla A parte la macchinetta quella per le bevande Chiudiamo, non si sa mai che entra qualche Pokémon Ehi, tu lasciami stare Io non vorrei che andando addosso alla G Ma lui è PJ8 Allora mi hanno detto Con la I ti dà le informazioni PJ8 Abbiamo anche il Pokédex Ragazzi, questo? Ah, il centro Pokémon Insegna mosse Vediamo cosa mi dice Non mi dice nulla Va bene Tu invece? Oddio, ho cliccato col tasto destro E è successo qualcosa raga Ah, mi ha curato i Pokémon Ok Oh, un altro loot Hai trovato MT07 Grandine Eh, però non posso usarla su Charmander ragazzi Però abbiamo trovato già due loot Incredibile Se... Attenzione Ferrecitta Usa il teletrasporto No, non è vero ragazzi Da quello che mi hanno detto Abbiamo la minimappa E possiamo piazzare in qualsiasi momento Una sorta di puntatori Dove poterci teletrasportare velocemente Quindi io direi Di piazzare subito qua Il nostro tipo Il nostro villaggio Waypoint New Queste qua come nome Li diciamo Casa Lo chiamiamo Casa Salviamo Vediamo Se l'ho settato correttamente Eccolo qua Questo qua è il Waypoint Di casa nostra Perfetto Abbiamo salvato I Waypoint Però non voglio vedere i raggi Che mi danno un fastidio Madonna Ok, qua c'è un'altra casetta Entriamo Lui Ah, questo qua mi sa che è il Market Raga Qua c'è un'altra Cosa dell'acqua Sì, infatti Questi sono i messaggi ragazzi Messaggio neve Messaggio onda Scrivetemi nei commenti Cosa sono tutti sti messaggi Non so cosa siano Proseguiamo Proseguiamo nel nostro villaggio Andiamo verso di qua Controlliamo bene Abra Oh Si teletrasportano Infami Ragazzi Vi dico subito Io mi sono fermato A un pezzo della terza generazione Chiudiamo sempre tutte le porte E visitiamo pian piano Oh, un altro loot qua Attenzione Revive Revitalizzante Molto bene Oh, è un allenatore livello 2 Raga Proviamo a sfidarlo Vediamo Clicca col tasto destro No Forse bisogna tirargli addosso il Pokémon Sì Attenzione Ha messo in campo rattata Livello 2 Dai Sciottalo Sciottalo Mamma mia Abbiamo già preso dei punti esperienza Nel nostro Charmander Ho vinto la battaglia La mia di scioglio 12 Mamma mia Che scarso Da quello che ho capito È una sorta di vanilla Comunque a tutti gli effetti Perché dovremmo costruire Vedete qua c'è il cibo Che però Che ne prende danno Stavo dicendo È una vanilla Tra virgolette Vera e propria Oh, caramella rara Raga Mamma mia Che culo Pronti via Una caramellozza rara Incredibile Come prima cosa Dobbiamo metterci lì E recuperare Le ghigocche A questo punto Io direi Visto che il nostro villaggio L'abbiamo bene o male Visitato tutto Io direi Di iniziare A andare Verso Vediamo intanto qua Ci sono dei Pokémon A livello basso No, a livello 9 A livello 25 Gloom A livello 25 Proviamo a uscire un attimino Dal villaggio Non troppo Non andiamo troppo In avanscoperta Perché ho paura Che qua poi ci spaccano Il culo Gli allenatori Vediamoci Guardiamo bene intorno Lì c'è un altro Gloom Che livello è sto Gloom Livello 46 Lui Aspetta mi ricordo Non mi ricordo come si chiama Ladyba 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 È vero Lady Gaga Lui è Allora vediamo se troviamo Degli alberi di ghigocche Vi ricordo ragazzi 2000 like Episodio speciale Prossima settimana E poi il sabato Uscirà tutti i sabati Se riesco naturalmente Sempre a registrare La Pixelmon Fissa Sul canale Da quello che so C'è una sorta di mod Che per gli alberi Quelli che crescono normalmente Non per questi Che sono stati creati a mano E si vede Dovrebbero abbattendo Un blocco solo Cadere tutti i blocchi Tra l'altro Non vi ho detto All'inizio del video Che questa mappa Oddio si è frezzato un attimo Stavo dicendo Questa mappa È una mappa Creata ad hoc Da delle persone Che avrà Dei biomi spaventosi Ogni bioma Ha i suoi pokemon Che nasceranno Appunto Sosponeranno Solo in quei biomi lì E è veramente Fatta bene Ragazzi Io l'ho vista Dall'alto E Sembra veramente Una figata Poi tipo Per i leggendari I pokemon Gli uccelli leggendari Quindi Zapdos Moltre Serticuno Ci sono Dei Dei spawner appositi E bisognerà utilizzare Determinati strumenti Per poter Accedere Tipo ai loro altari E così via Quindi Figata assurda Ma oh Finalmente Delle ghigocche Però ghigocca rosa Poi mi hanno Anche consigliato Nel momento in cui Io trovo un po' di ghigocche Soprattutto le bianche e le rosse Che saranno quelle Che all'inizio ci serviranno Per fare le pokeball Le prime pokeball Di non Utilizzarle subito Ma di fare una farm Raga Non ci credo Selebi Ho beccato un leggendario Al primo episodio Raga Selebi livello 70 Incredibile Cioè ho beccato un leggendario Al primo episodio Raga Selebi È livello 70 Tra l'altro Quindi non posso Neanche provare Minimamente Ad affrontarlo Mi spacca il culo In una maniera Devastante Dobbiamo andare Alla ricerca Di ghigocche Dobbiamo farci I primi strumenti Raga Allora Iniziamo facendoci Un crafting table Piazziamo giù Il crafting table Che sicuramente Ce ne saranno Un miliardo In casa Ma io me li faccio Lo stesso Ci facciamo Un piccone E andiamo A prenderci subito Il carbone Oh Qua c'è un albero Di ghigocche C'è del ferro Bella La ghigocca bianca Spettacolo Raga Ho già beccato La ghigocca bianca Che culo Allora Prendiamoci Sto carbone Intanto Prendiamoci Tre pezzettini Di cobblestone Così ci facciamo Un piccone In cobblestone Oh Minchia Non avevo visto Questa raga Ghigocca rossa Ghigocca rossa Ghigocca bianca Perfetto Vado a farmi Già la prima farm Che da quello Che ho capito Basta piazzarle Per terra Non serve Fare un granché Allora Facciamoci la farm Rosa Rossa E bianca Minimamente qua Il legno Tra l'altro ci sto pensando Proprio adesso Mamma mia Ma che titolaccio Clickbait Posso mettere Già nell'episodio 1 Tipo Leggendario Nel primo episodio Anzi Subito Un leggendario Mamma mia raga Mi odierete Allora Facciamoci un po' Di legna Facciamoci una chest Io direi Possiamo farci anche Una chest doppia Iniziamo a sbattere Tutto quello che non ci serve Sti fiori qua Poi li sbatto Via nel mare Perfetto E io direi Che possiamo Continuare Nel frattempo qua I nostri alberelli Stanno crescendo Proseguiamo un attimo Nella scoperta Nella scoperta Della zona E vediamo Se troviamo qualcosa Di interessante Guardate quanti fiori Oh Un loot Ho trovato una mt La mt grandine Un'altra Un'altra volta Solo grandi Ne trovo io Un altro loot Ah Antigelo Stiamo giù anche Ogni tanto delle torce Ma è weedle lui A livello 6 Voglio sfidarlo Graffio dai Non posso morire Contro un weedle Ok Sono salito di livello Oh mi ha dato le cordicelle Ah che storia Cioè quindi i pokemon Quando muoiono Ti rilasciano anche Dei drop Ok Proseguiamo di qua L'altra I fiori A manetta E i primi episodi Raga Sono un po' così Cioè Si va molto In avanza scoperta E recuperiamo Tutto il carbone Che troviamo I materiali Che troviamo Sulla nostra strada Li recuperiamo Soprattutto adesso All'inizio Ci serviranno Un sacco Molto bello Oh Eila Mamma mia Raga Che pericolo Se mi scavo Sotto i piedi Fail al primo episodio Leggendario E fail al primo episodio Che costruzioni Ci sono In queste mappe Sto andando Su un'altra isola Se vado di qua Ah E un poke center Quindi posso Tranquillamente Curare il mio Charmander Che ha solo 7 PS Ma non drowsy 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 Non ci sono loot Qua da Da prendere Sarà già se passato Quelche spazzolino A recuperare le cose Ma fermi tutti Quello è Venusaur Raga Ed è spawnato Ma mi sa che era Mega Venusaur Mi sa che era La mega evoluzione Aspetta Se io premo K No Ho sbagliato tutto Sono andato nella wiki Se premo I Le mega evoluzioni Dove sono Mi sa che Raga Eccolo là E là E là E là Cos'è No raga E' mega Venusaur No è Venusaur Ma cosa c'è Una colonia di Venusaur E' un boss raro E lui è a livello 43 Ma cos'è grosso E' gigante Guardatelo in confronto Il mio Charmander Oddio Via che bello Raga Venusaur Spettacolo La Cos'è con il materiale La Si prenderà col ferro Frammento di pietratuono Quindi con più frammenti Di pietratuono Si farà la pietratuono Immagino Quanti Ne ho 11 Tanto che ci siamo Andiamo in cima qua Vediamo cosa c'è Tante alta ancora Sta montagna Bello che adesso Arriveremo in cima E non c'è nulla E c'è un loot Caramella rara Ho fatto bene raga A venire fin qua in alto Usiamo il waypoint Attivalo Teleport Tac Teletrasportati a casa Curiamo il nostro piccolo Charmander Il nostro amico Il nostro amico fidato Poverino è morto Contro un Markro A livello 8 Poverino Perfetto ragazzi Questo primo episodio Della Pixelmon Termina qua Allora Mi raccomando Mi servirà tutto il vostro aiuto Dove vai Charmander Rientra nella poca Scrivetemi qua sotto Dei commenti su come Portare avanti al meglio Questa serie Perché io non ho mai visto Su YouTube Una serie della Pixelmon Non so che c'è tanta altra gente Che la sta portando Ma se devo essere sincero Non ho mai visto I loro video E quindi non so come funziona Spiegatemi magari Cosa è meglio fare Se devo solo girare Se devo costruirmi una base Datemi dei consigli Insomma Vi ricordo che ci arriviamo A 2000 like Settimana prossima Oltre al classico episodio di sabato Uscirà anche un episodio bonus Della Pixelmon Vi ricordo anche di passare In descrizione Che trovate oltre tutti i link Di miei social Anche i link Degli altri partecipanti A questa serie Iscrivetevi al canale Se avete fatto Noi ci vediamo Domani con un nuovo video Qui da Zanzo E Charmander È tutto Un bel saluto E Perla